I carabinieri, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per contrattare lo spazio dei stupefacenti, hanno arrestato un corriere. Il fatto è successo a Londissone, dove i militari dell'arma hanno sottoposto a controllo un uomo alla guida di un'utilitaria. Si tratta di un italiano di 41 anni. Nella vettura dell'uomo che vive a Torino è stato rinvenuto un pacco nell'alloggiamento della ruota di scorta, all'interno del quale era contenuta cocaina, del peso di oltre un chilo. L'uomo è stato arrestato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS